Tu sei mai stato dentro un cano? Un'esperienza che tutti prima o poi faranno noi la faremo due volte. Otto personaggi famosi sono fuggiti dal Colosseo. Soffro d'asma. Guardatevi adesso perché dopo me guardatevi 14 giorni, eh? Come lo dico? Dobbiamo capire che direzione hanno preso. Secondo me più è grande il posto e più è difficile trovarci, eh? Li sottovaluti. La prima cosa che fanno è che ti intercettano. Il nostro punto di forza è che siamo camouflage. Camouflage? Sì. Abbiamo 14 giorni per prenderli. Mettiamoci al lavoro. Subito. Ah, ah, tenaro. Ciao, belli. Ciao. Vuol dire che ci hanno intercettato fino adesso? Vai, Collino, picchio. Ok. Senza aria. Vivo in un perenne stato di ansia. Così non diamo nell'occhio. Se mi abituassero a stare senza telefono, ci starei volentieri. Non riesco. Vai via se mi prendono. No, no, per favore, non me lo dico più. Vai via. Francesco Fazzi si è stato catturato. Ci ha fregato. Ciao. Fuga per la vittoria. No. Stava libera tutto. Buonasera. Servi idraulico? Che bello. Poi a quattro del bastone. Stasera dormo tutto nudo, ve lo dico. Quattro del bastone. Grazie a tutti.